Dopo questo breve cambio palco, proseguiamo col programma della ultima giornata di Trento Smart City Week, lo facciamo con un incontro dal titolo Religion to Go, sul palco saliranno Sara Iazzi e Fabio Poiesi di FBK, moderati da Francesca De Chiara, sempre di FBK, per parlarci di come l'innovazione tecnologica potrebbe unire virtualmente le comunità religiose di tutto il mondo, anche attraverso questa applicazione che può favorire nuove forme di partecipazione spirituale, quindi venite pure, salite pure sul palco e lascio direttamente a voi la parola. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, oggi diciamo che io sono qua in una duplice veste, quindi moderatrice ma anche membro del team del progetto Religion to Go, che è un progetto interdisciplinare promosso dalla fondazione Bruno Kessler e diciamo include diversi centri di ricerca e qui abbiamo Sara Iazzi, antropologa, ricercatrice dell'Istituto Scienze Religiose e Fabio Poiesi del gruppo Tecnologie della Visione che ci parlerà più che altro dell'applicazione. Questo progetto ha un valore interessante, soprattutto in un contesto come quello della Smart City Week, dove sostanzialmente si parla di città intelligente ma anche di cittadini intelligenti e una nostra riflessione è stata che la dimensione spirituale in effetti non è stata mai considerata tantissimo nel paradigma della Smart City, per cui oggi ne parleremo ampiamente e parleremo soprattutto della nostra indagine sul campo, quindi darei subito la parola a Sara per iniziare la presentazione. Grazie Francesca, buon pomeriggio già a quest'ora a tutti quanti. Allora inizio subito un po' introducendo la squadra di ricerca di questo progetto che vi presentiamo oggi, quindi è composto da quattro persone, la moderatrice appunto parte della squadra, siamo quattro veramente discipline diverse che interagiscono tra loro, anche questa è una parte della visione un po' innovativa della fondazione Bruno Kessler e abbiamo messo insieme quindi delle competenze più di scienze umane, quindi antropologiche, io sono appunto un'antropologa, poi Francesca De Chiara che è una sociologa, ma che è una ampia competenza anche del ramo dell'ICT, quindi dell'informatica, dei dati, della lettura dei dati e poi appunto due ingegneri elettronici, quindi Fabio Poiesi e Paul Cippendel che oggi non è qui con noi. Quindi un gruppo interdisciplinare che ha deciso, proprio partendo da un'idea, dalla considerazione di questa tecnologia che vi presenteremo, di provare a testarla e testandola di aprire tutta una serie di domande sulla contemporaneità, di testarla su un gruppo specifico di persone. Queste persone sono le comunità religiose, fedi religiose diverse, a oggi in Italia le diverse organizzazioni religiose sono 840, quindi abbiamo una percezione di un paese ancora abbastanza monolitico dal punto di vista spirituale, cioè chiaramente un paese a maggioranza cristiano-cattolica, ma all'interno di questa grande denominazione in realtà ci sono poi 840 fedi diverse. Allora partendo da questo dato noi abbiamo cominciato a dire bene, se una tecnologia che poi è la creazione di una realtà virtuale, di una realtà aumentata, ve lo dirà poi meglio Fabio Poiesi, potesse essere utilizzata laddove ci sono dei problemi di culto, dei problemi di fedi, nel senso del problemi a trovarsi, problemi a avere anche proprio uno spazio di culto e se la potessimo utilizzare, quindi utilizzassimo la tecnologia integrandola all'interno delle fedi religiose, quindi questa è stata la prima domanda che ci siamo posti e ovviamente per portare delle risposte che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato il metodo dell'osservazione partecipata dell'antropologia, questo significa prendere la tecnologia, portarla all'interno di comunità religiose e chiedere ai fedeli, quindi chi si professa credente e soprattutto ai leader religiosi, quindi abbiamo sentito il vescovo della chiesa ortodossa rumena, abbiamo sentito l'imam della comunità musulmana in Italia, abbiamo sentito dei preti anche di fede cattolica eccetera, anche dei greco ortodossi, abbiamo provato a chiedere bene che cosa ve ne fareste voi di questa tecnologia e come pensate che questa tecnologia possa aiutare lo status attuale della vostra comunità. Infatti ricordiamo che in realtà in Italia questo dato delle 840 fedi diverse ha un altro dato che è da considerare, il fatto che c'è una reale mancanza di luoghi di culto per queste 840 fedi. La maggior parte delle fedi non riconosciute, penso per esempio alla fede buddista ma anche alla comunità musulmana di fatto si trova in sale di preghiera abbastanza ancora improvvisate oppure in stanze che vengono affittate, penso per esempio alla comunità Bahai, che vengono affittate a seconda delle esigenze, per esempio per feste particolari oppure addirittura a comunità come quella greco-cattolica che è composta per lo più da gente di nazionalità ucraina che utilizza chiese cattoliche, come dire, le riallestisce per due domeniche al mese. Quindi veramente è una situazione in cui ci si arrangia per poter portare avanti il proprio culto. Allora Francesca ha detto che normalmente nel paradigma smart city non viene considerato anche il lato spirituale, ma se ci pensiamo oggi, più che mai nonostante sia stato detto, se ci pensate negli anni 60 si parlava della fine, della società disincantata, già Nietzsche aveva prospettato questa morte di Dio, beh in realtà mai come oggi è chiarissimo che la fede religiosa è un dato non soltanto sentito nelle società occidentali, ma anche proprio un dato che porta anche a una conflittualità, che porta anche appunto a una problematica nella gestione degli spazi pubblici. Allora in questa visione, diciamo in questo contesto, noi abbiamo provato a pensare come una tecnologia possa in realtà risolvere o perlomeno attutire alcuni di questi problemi. Quindi voi vedete in questa slide appunto di cosa si tratta, ma lascerei la parte pratica a Fabio, che ci spiega in che cosa consiste davvero questa tecnologia. Allora, immaginate un utente che prende un telefono cellulare e decide di ricostruire in tre dimensioni, può essere un oggetto o un amico. Quindi quello che viene fatto con questo cellulare, bisogna girare attorno all'oggetto che si vuole ricostruire, come in questo caso Paul Chippende, che è l'altra persona che sta lavorando con noi. Il cellulare tramite un'applicazione acquisisce una serie di immagini in maniera automatica. Questi dati vengono mandati a un server che si occupa della ricostruzione dell'oggetto in 3D, dell'elaborazione delle immagini. E questa elaborazione funziona in varie fasi. C'è una fase dove vengono estratti dei punti, viene creata questa nuvola, si chiama nuvola di punti, e il processo successivo è quello di poi andare a ricostruire le superfici dell'oggetto che si vuole ricostruire. La fase successiva invece è quella che noi chiamiamo di texturing, quindi aggiungere la tessitura dell'oggetto che si sta ricostruendo a queste superfici sia quella che poi dà questo aspetto più realistico all'oggetto tridimensionale. Quindi quelle cose ad esempio relative ai dettagli dei capelli, ai dettagli dei vestiti, della pelle. Poi successivamente, quando il modello è pronto, questo può essere scaricato sull'applicazione stessa, sullo smartphone, o un normale desktop, computer. Quello che noi poi vogliamo fare con questo tipo di applicazione è riuscire a stimolare la creatività dell'utente stesso per utilizzare questo modello 3D come vuole. Ad esempio, una possibilità potrebbe essere quella di utilizzarlo magari in realtà aumentata o addirittura nella realtà virtuale in modo da creare degli spazi con tutti gli oggetti replicati di questa persona. Quindi, ora che sapete come funziona l'applicazione, immaginate di andare all'interno di un museo, di vedere un oggetto che vi interessa e utilizzare questa applicazione per scaricare, per scattare tante foto. E quindi, poi si può utilizzare questo modello ricostruito in realtà aumentata. Quindi, quando volete fare vedere una certa cosa che avete visitato ai vostri amici, non è più un'immagine 2D dove non si ha l'idea, non si ha la percezione della profondità, della struttura, della geometria di questo oggetto. Ma questo ti permette di avere un'esperienza, diciamo, diversa. Quindi, qui c'è un altro esempio, sempre acquisito all'interno di questo museo. E qui, come potete vedere, questo tipo di applicazione non è solo fatto per oggetti di piccole dimensioni, ma vi permette addirittura anche di digitalizzare, di ricostruire ente di grandi strutture, come edifici o addirittura anche città. Potete fare, volendo, anche delle foto aeree e queste vi permettono poi di ricostruire alcuni tipi di zone. Quindi, potete, ad esempio, montarlo sopra un drone, che vi permette di andare attorno, per esempio, a Trento, e quindi di ricostruire i vari edifici. Allora, vogliamo far vedere sostanzialmente come funziona replicare, cioè come si fa a produrre questa replica digitale. In realtà, poi, diciamo, quello che abbiamo fatto sul campo è stato appunto usare l'applicazione per replicare oggetti sacri, sostanzialmente. Quindi, diciamo, icone, statue, addirittura è possibile anche con edifici. Allora, qui potete vedere su questo tipo di applicazione abbiamo, vediamo. Quindi, l'applicazione consiste, nella parte che vedete sopra in alto a sinistra, abbiamo la lista delle scene. Queste sono tutte le scene che sono state ricostruite recentemente. Adesso possiamo andare a ricostruirne una nuova. Qui sotto, quest'anteprima che sto muovendo, vedrete l'oggetto in tre dimensioni che, mano a mano, verrà ricostruito e si genererà quella nuvola di punti che vi ho fatto vedere prima. Quindi, se ad esempio volessi ricostruire in 3D Francesca, adesso farò così. Quindi, tengo il telefono puntato verso di lei e faccio partire la posizione. Questa comincerà a estrarre delle fotografie che vedete in alto, no, in basso a sinistra. Poi, quando un numero sufficiente di frame è stato trasmesso al server, il server comincerà a comunicarmi la struttura. Adesso potete vederla qui sotto. Mano a mano che i frame vengono elaborati dal server, questi andranno ad aggiungere più punti alla ricostruzione 3D. E questo è il primo passaggio, poi, verso la creazione di un oggetto più dettagliato, con le superfici e con la tessitura di cui parlavo prima. Ora posso farvi vedere sul computer un modello un po' più elaborato, che è quello di Sara. Di Sara, di Francesca. Ecco, qui vedete la nuvola di punti e queste che vedete ai lati sono le immagini che sono state scattate dall'applicazione. Questo software permette di capire quali sono i punti geometricamente distribuiti nello spazio, quindi di avere un'idea di dove sono situati, ma anche di capire quali erano le posizioni della telecamera in cui queste immagini erano state scattate. Quindi vedete che con un'applicazione molto semplice è possibile poi ricostruire le cose che vedete anche in giro per la città. Se volete ricostruire, per esempio, una statua, basta che ci girate attorno, scaricate queste immagini e queste poi vi permettono di creare modelli 3D delle cose che vi piacciono. Io chiederei invece a Sara qual è stata l'accoglienza appunto dei vari leader religiosi intervistati e delle comunità religiose che noi abbiamo intervistato. L'accoglienza di questa applicazione e quali sono i dati emersi da questa prima rilevazione? Allora, intanto l'accoglienza è stata sorpresa molto positiva perché normalmente noi pensiamo a comunità religiose come qualcosa di chiuso, come qualcosa di statico, come qualcosa che va contro, in un certo senso, il cambiamento. Invece la religione nella storia è sempre stata ovviamente il riflesso di società e di culture che cambiano, è sempre stato il risultato di volta in volta dell'interazione tra diversi anche ambiti religiosi, perché no? Quindi mai pensare alla fissità della tradizione religiosa. Quindi effettivamente ecco un'accoglienza positiva e anche si sono prospettate una serie di possibilità di utilizzo di questa tecnologia. La prima possibilità è quella di utilizzarla come scopo educativo e cioè, per esempio vedete in questa slide stiamo replicando il calice dell'Eucaressia con Don Cristiano Bettega che racconta appunto come nella sua parrocchia oggi siano tantissimi ragazzini di fedi diverse da quella cattolica che vengono a fare i compiti, vengono a studiare appunto nel pomeriggio in parrocchia. Allora fedi soprattutto tra l'altro di fede musulmana. Allora uno degli utilizzi di questa applicazione poteva essere quella di fare uscire gli oggetti sacri dagli armadi, dai tabernacoli, dai luoghi appunto che li nascondono al resto del mondo per chiaramente far vedere come funziona far vedere anche poterli proprio insomma osservare nella loro, a 360 gradi quindi nella loro, diciamo, fisicità smaterializzata. Altre possibili applicazioni di questa tecnologia quella di chiaramente tenere o condividere qualcosa che per il fedele è sacro qualcosa che è sentito che ha un legame con l'emotività proprio della persona con comunità che sono lontane o perché qualcuno, o perché si è emigrati o perché si sono lasciati i paesi di origine o perché c'è impossibilità di andare nei luoghi di culto a cui si appartiene per nascita allora ecco che la condivisione per esempio dell'icona greco-cattolica che è un'icona che per i greco-cattolici è un'icona che protegge un'icona che porta fortuna però rimane dentro la chiesa di solito si dà un bacio a questa icona per farsi proteggere ecco allora poterla condividere nella sua, diciamo, dimensione 3D pur smaterializzata con chi è magari rimasto in Ucraina allora questo è qualcosa a un'altra possibile applicazione che si può immaginare. Infine ancora un'altra applicazione potrebbe essere quella di nuovo di allestire dei luoghi di culto improvvisati come le stanze multifedi che in Italia sono davvero tante sono oltre 2500 negli ospedali, negli aeroporti nelle università allora in queste stanze multifede per esempio si potrebbe proiettare di volta in volta un oggetto sacro per facilitare a questo punto allora la preghiera o il culto religioso quindi questi qua sono i tre aspetti principali emersi dalla ricerca sul campo Per quanto riguarda invece l'aspetto della benedizione che comunque implica una relazione, diciamo, fisica con chi ti benedice sostanzialmente cosa ci puoi dire? Ma un dato che ci ha abbastanza sorpreso di nuovo è il fatto che già adesso la tecnologia è integrata nel culto religioso penso alla sala di preghiera islamica qua a Trento che per esempio utilizza il televisore per siccome non è una sala molto grande ovviamente in rapporto ai fedeli musulmani allora si sono dovuti tra virgolette arrangiare con una televisione che proietta il sermone per esempio del venerdì quando la sala è troppo piena per cui si sta in altre stanze e si vede il sermone del venerdì dalla televisione ma questo anche è sempre successo se ci pensate la messa vista la domenica in televisione quindi in realtà la tecnologia è già integrata nel culto religioso la benedizione già avviene in modo remoto ci raccontava per esempio il vescovo ortodosso della comunità romena italiana a Roma ci raccontava che lui su FaceTime per esempio già benedice i fedeli e i parenti che gli chiedono sapendo che c'è la sua faccia su FaceTime sanno che è lui in qualche modo quindi la benedizione ha un suo impatto ha un suo significato e mantiene la sua sacralità la sua dimensione sacra allora però con la tecnologia ci evolviamo e abbiamo nuovi strumenti per autenticare chi è diciamo legittimato a dare una benedizione un imam un vescovo un prete eccetera eccetera allora come si può fare beh Fabio ce lo può spiegare meglio in termini tecnici non troppo allora una possibilità quella che adesso stiamo vivendo è quella delle criptovalute le criptovalute sono basate su un sistema di blockchain che è quello diciamo chiave che permette di autenticare una transazione questo può essere visto ad un livello più alto e nel caso per esempio della benedizione si può pensare ad una persona che possiede la capacità di firmare di autenticare una determinata azione e questa poi essendo propagata all'interno di appunto di questa blockchain non può essere più cambiata quindi dà proprio la possibilità di avere un'autenticazione a lungo termine che che può essere verificata in maniera assoluta l'altra l'altra cosa l'altra parte un po' più diciamo simile a quello che accade nelle immagini è quando viene applicato il cosiddetto watermark ovvero mettere all'interno dell'immagine del contenuto che permetta di capire che questa immagine è stata generata da un certo utente la stessa cosa che stiamo cercando adesso di analizzare di fare ricerca è appunto come inserire questo watermark all'interno di modelli 3D non è una cosa immediata non è una cosa facile perché potrebbe essere contraffata ci sono altri metodi che potrebbero creare insomma delle contraffazioni di modelli quindi muovendoci verso questo tipo di tecnologia potrebbe essere un modo per andare incontro a questo problema della benedizione e di autenticarla in una maniera assoluta qual è lo stato dell'applicazione cioè quando saremo in grado sostanzialmente di averla sul nostro cellulare di usarla allora questa tecnologia al momento è in uno stato veramente embrionale quindi per ora l'applicazione è solamente all'interno del nostro laboratorio la stiamo sviluppando all'interno di questo progetto europeo che si chiama Replica infatti l'applicazione si chiamerà probabilmente RepliCorder e si spera che tra un anno o un paio di anni potrebbe essere in un app store dove la gente potrà scaricarla e provarla a me ha colpito moltissimo diciamo all'inizio poi di questa avventura diciamo la velocità con la quale appunto gli oggetti vengono replicati e ricostruiti sostanzialmente quindi io avrei diciamo ancora qualche domanda insomma una domanda che poi in realtà abbiamo anche posto agli intervistandi ma allora un oggetto smaterializzato rimane davvero sacro allora diciamo che che cos'è il sacro intanto noi ci possiamo cominciare a rispondere a questa domanda che cos'è il sacro ognuno di noi ha qualcosa di sacro a casa propria anche quelli che si dichiarano atei hanno un rapporto con degli oggetti particolari che è un rapporto privilegiato questo fa parte della storia della nostra specie che ha da quando è diventata uomo diciamo affarensis e in poi con l'evoluzione ha sempre avuto a un certo punto ha attribuito agli oggetti o un utilizzo semplicemente molto utilitaristico cioè mi serve a oppure un utilizzo che non aveva un senso pensate alle collane o semplicemente gli oggetti di abbellimento e poi le prime statue la potnia la prima statua per esempio della fertilità oggetti che non avevano un utilizzo immediato ma stavano lì a rappresentare qualcosa allora noi come esseri umani abbiamo sempre questa idea di oggetti che non sono soltanto degli oggetti di utilizzo ma che stanno a rappresentare qualcos'altro e questo ovviamente che cos'è la sacralità è quindi la costruzione del sacro da parte di una comunità cioè la comunità che decide quando una cosa è sacra pensate per esempio che ci sono oggetti che sono sacri soltanto in certi momenti dell'anno io sono sicura che se ci pensate vi viene in mente quando e a che cosa l'albero l'ulivo per esempio nella tradizione cristiana eccetera ci sono oggetti che sono sacri soltanto in certe ore o che sono sacri soltanto in mano a certe persone quindi la sacralità e la costruzione di volta in volta non è data anche questa per sempre ma è la costruzione di volta in volta del sacro che fa l'essere umano e allora anche in questo caso è sacro ci hanno risposto i nostri leader religiosi l'oggetto smaterializzato soltanto nel momento in cui questo oggetto anche smaterializzato viene utilizzato in modo sacro il sacro corano per esempio anche smaterializzato è sacro fin quando qualcuno non lo desacralizza quindi non è l'oggetto in sé e di nuovo siamo al fulgo della questione ma è come viene utilizzato quando viene utilizzato eccetera quindi attenzione perché il sacro è veramente intrecciato allo spazio e al tempo adesso siamo in una fase diciamo anche storica in cui noi possiamo scambiare le linee di spazio e tempo con la tecnologia pensate che possiamo essere per esempio veramente connessi in posti lontanissimi e remoti pur rimanendo fisicamente da un'altra parte per cui davvero sono linee che si spingono e quindi allora anche il concetto del sacro chissà si destruttura o si risacralizza a seconda del momento e dell'utilizzo che si fa e soprattutto io sottolineerei che un progetto del genere ha a che fare appunto proprio con la dimensione il tempo che il credente il fedele comunque impiega nella pratica religiosa e quindi diciamo quella è una dimensione molto molto importante che all'interno diciamo di una smart city quando si parla di cittadini smart cioè intelligenti sicuramente va considerata e io chiederei diciamo al pubblico se ha qualche domanda qualche curiosità insomma su Religion2Go e nessuno? Qualche domanda? Ne abbiamo spiazzato Tu Francesca non ne avevi di riserva? Io sì ne avrei tantissime come procederà il progetto? Diciamo quali sono le prossime comunità che andremo ad intervistare? Allora per adesso vorremmo che il progetto fosse più interfedi possibile e quindi ci manca la comunità ebraica sicuramente e poi ci piacerebbe diciamo come dire provarlo nei monasteri io ho fatto una ricerca lunga sulla diciamo tradizioni monastiche contemporanei in Italia e in particolare mi interessa i monaci buddhisti perché hanno un rapporto davvero interessante con gli oggetti soprattutto nella tradizione zen per cui queste sono le due comunità con cui mi piacerebbe integrare quello che abbiamo fatto fino adesso e poi invece dal punto di vista tecnico c'è una possibilità che secondo me va al di là della scansione dell'oggetto sacro ma è quella della ricreazione proprio di spazi in 3D in cui sembra di essere immersi quindi veramente la realtà virtuale che potrebbe aiutare tutte quelle persone che si trovano impossibilitate a recarsi nei luoghi di culto o per malattia o per lontananza e però in qualche modo si potrebbero risentire dentro al luogo di culto e quindi la sua evoluzione anche proprio tecnologica è proprio quella di essere immersi in una stanza che è esattamente quella replicata forse Fabio poi ce la può dire meglio e quello sarebbe ancora un'altra un'altra diciamo test sull'utilità per le comunità religiose di questa applicazione quindi sicuramente è quello di includere più possibile fedi completamente diverse anche perché non tutti hanno reagito allo stesso modo ci sono per esempio stati i buddhisti soka gakkai che hanno detto assolutamente noi non usiamo neanche whatsapp nel momento in cui ci troviamo per cui noi non possiamo testarla questa tecnologia le tradizioni diciamo più tra virgolette consolidate che sono più a lungo in Italia sono quelle che sono state sicuramente più aperte a questa sperimentazione quindi questo ce la dice lunga sul fatto che le comunità religiose stiano interrogandosi anche sul come sul come gestire la tecnologia le innovazioni tecnologiche ma anche come e questa è una cosa che è emersa durante le interviste anche come attrarre i giovani che sembrano un po' come dire disinteressati al linguaggio religioso quello perlomeno tradizionale mentre sembrano molto attratti dal linguaggio religioso mediato da queste applicazioni infatti diciamo una ricaduta immediata dell'utilizzo di una replica order insomma di una di digital replicas all'interno ad esempio non so mi viene in mente catechismo oppure appunto sessioni educative che fanno dialogare sostanzialmente fedi diverse appartenenti a fedi diverse quindi questo se ci vuoi dire due parole insomma sul fatto che magari questo tipo di tecnologia può coadiuvare anche e spiegare e fare integrare persone di fedi diverse il problema delle famose 840 organizzazioni di religione diverse è proprio la non conoscenza noi non conosciamo gli altri culti a meno che non appunto non studiamo storia delle religioni o non facciamo dei corsi ma riguarda veramente una piccola parte della popolazione normalmente quello che sappiamo è mediato dai media appunto da quello che si sente da stereotipi e da appunto mancanza di conoscenza ovviamente le religioni sono basate anche sugli oggetti religiosi e come questi oggetti sono poi legati alla ritualità quindi il calice dell'eucaressia lo sensorio eccetera sono esempi di questo allora chiaramente la possibilità di avere questi oggetti fisici dinanzi è molto remota avere invece questi oggetti replicati dinanzi a uso e scopo educativo è invece una cosa molto facile sono portabili chiaramente quindi perché no quindi l'utilizzo nelle scuole l'utilizzo nella appunto nella conoscenza interferi è assolutamente credo quello numero uno quello più più facile da immaginare perché permette appunto di legare un oggetto o di nuovo un'ambientazione a determinati culti per sfatare stereotipi per quindi fare in modo che d'altra parte la realtà virtuale è quella che diciamo ci porta nell'immersione in realtà che non conosciamo e quindi questo vale anche per l'immersione in una realtà virtuale però di ordine religioso io un'ultima domanda sull'interdisciplina d'età cioè l'ibridazione di competenze in questo progetto visto che ingegnere sociologa antropologa come ti sei trovato e se questa diciamo modo di condurre la ricerca insomma ti ha portato anche come dire ad avanzare a progredire da un punto di vista proprio del progetto che stai conducendo Allora una delle cose ovviamente che dobbiamo scontrarsi come ingegneri è quella di specialmente dopo se questo tipo di applicazione viene utilizzato da qualsiasi utente è riuscire a gestire tutti i possibili scenari di utilizzo di questa applicazione noi come sviluppatori ovviamente sappiamo come questa applicazione funziona quindi sappiamo quali sono quegli oggetti che possono essere ricostruiti con dettagli geometrici molto alti però ovviamente la persona comune che non sa di queste cose cerca di acquisire qualsiasi cosa magari oggetti metallici che possono essere più difficili da ricostruire quindi per noi cercare di capire quali sono le sfide quali sono quelle cose che non abbiamo ancora risolto facendola utilizzare a più persone per noi è una cosa importante per capire dove avanzare con la ricerca e cosa andare a migliorare in termini di algoritmo e anche di qualità del risultato finale quindi io diciamo avrei avrei concluso e vorrei soltanto dire che appunto un progetto del genere è all'insegna come dire la serendipity della diciamo integrazione e ibridazioni competenze quindi diciamo in fondazione Bruno Kessler questo è possibile e soprattutto ringraziamo diciamo di averci dato questa opportunità grazie mille se non c'è nessuna brevissima domanda da parte del pubblico allora ringraziamo nuovamente Sara Iazzi Fabio Poiesi e Francesca De Chiara di FBK e prima di lasciare spazio al prossimo intervento vi ricordo quelle che sono le due iniziative di partecipazione che potete trovare proprio allo stand di FBK Climb un viaggio collettivo e sostenibile di oltre 10.000 km da Trento a Vuxi percorrendo chilometri nella nostra città in maniera chiaramente sostenibile possiamo percorrere questo viaggio virtuale fino alla Cina e dimostrare che la mobilità sostenibile è possibile Tag Cloud voce ai cittadini invece vi chiede di lasciare quelle che sono per voi le parole i termini più significativi di questi quattro giorni di incontri di Trento Smart City Week proprio allo stand di FBK che poi andranno a comporre la nuvola di concetti che riassumerà i principali argomenti trattati in questi quattro giorni vi ricordo inoltre per la sicurezza di fare attenzione a non lasciare borse e zaini e simili incusturiti nelle sale quindi così facciamo contenti i nostri sicurelli là fuori e passiamo a parlare del prossimo tema di questa Trento Smart City Week che Grazie a tutti